Il mondo è in grave pericolo. Il bocciolo di fuoco fiorirà e lo spirito del drago sarà libero dallo stregone. Vecchi nemici torneranno, nuovi amici li combatteranno insieme e una squadra di piccoli eroi vivrà la più grande avventura della propria vita. Ammirate, Eddie, il magnifico! Te l'avevo detto, è magia! Recisi forte! Drago, ore 12! Ore 7, 4 e mezza! È proprio dietro di noi! Dobbiamo rallentare! Dobbiamo fare cosa? Sarà grandioso! L'incantesimo del drago Dal primo febbraio al cinema